ciao a tutti amici e amiche bentornati sul canale di pisantana siamo di nuovo qui con xenoblade chronicles 3 in compagnia della nostra bea allora ragazzi proseguono le avventure del nostro noa e company e ci dirigiamo verso il pian di spada che però credo che sia ancora parecchio parecchio lontano dai come vedete abbiamo cambiato di nuovo le impostazioni dei personaggi perché il gioco proprio ti incentiva a cambiare molto spesso le classi quindi siamo di nuovo mescolati a questa cosa dobbiamo abituarci ancora un po comunque noi ci proviamo e vediamo che ne viene fuori ma c'è un mostro grande c'è uno di quelli due sono sono due che quelli sono del keves ma lì sono keves contro agnus e ci hanno detto di farci gli affari nostri quindi noi bellamente ce ne infischiamo arrivederci cari arrivederci buone botte ovvia regione del fornis pianure di ribbi ok questa era la prima tappa collina di sparris lì c'è un canale d'etere oh mio dio cosa è successo povero nopon bam bam è circondato oh no oh no oh no cosa facciamo cosa facciamo i soldati della colonia 4 sono tutti come te forza ragazzi sistemiamo i problemi di questi qua salviamo bam bam non dico mai di no a una missione di salvataggio vai questi ce li ce li cuciniamo dai fiaccamento qualcuno gli faccia l'atterramento per favore non è andato Iaccamento qualcuno gli faccia L'atterramento per favore Zacche te Ma c'è un altro? Non me l'ho accorto Ok ce l'abbiamo fatta Grazie tantissime Grazie a voi Bam Bam vive per bighellonare ancora Bravo Bam Bam Non c'è di che Torniamo alla colonia Alla svelta Ok? Sì andiamo Bam Bam Se continui a battere la fiacca Ti prenderai una strigliata da Dinzel A Bam Bam non importa Bam Bam fa quello che Bam Bam vuole E ora Bam Bam è super affamatissimo Bam Bam muore di fame Prima di arrivare a colonia Se non mangia subito Già nemmeno io mangio da questa mattina Ci riposiamo un po' allora Facendo fuori coi mostri Dovremmo aver guadagnato un po' di tempo Se stomaco vuoto Pon Manana tua migliore amica Manana cucina Pranzetto da leccarsi i baffi È sera che pranzetto Davvero Pon Questo rende Bam Bam molto felicissimo Mi dispiace darvi così tanto disturbo Manana molto grata Se a me ci porta custolette di Ardon Per lei da cucinare Ok facciamo in un attimo Va bene Quindi No ho sbagliato puzzante Noi proseguiamo il nostro percorso Ah mi sono dimenticato C'era l'etere L'etere E quello da Sì Tramandare In più c'è C'è l'icona di un Eh sarà la carne che vuole Ah ok Quindi non è finita lì Va bene dai Eee Affettiamolo It's stuck Ok costolette di Ardon Una su tre Però non me lo da Come missione Allora Trapassa Tramanda insomma Questo qui Proviamo No Vabbè dai Ok Va bene Li troveremo in giro Li troveremo Guarda uno è quello lì Sì sì l'ho visto Eh ce ne sono due Guarda perfetto Quindi dai Giovanotto Guarda E un altro E un altro è questo qui Sono quelli con le corna No non guardare me No come sta Ok ce l'abbiamo tutte Via si mangia Allora Andiamo da Manana Manana Dov'è Manana Ah fa da sé Bene Allora amici fa questo di solito Cosa intendi Viaggia di qua Di là dappertutto Fa campeggio con Beh non proprio sempre Ma sì Più o meno sì Che bello Bambam può abituarsi A così tantissima libertà E da quando Non saresti libero Eviti di lavorare Prendi un sacco di pause Per dormire Dori in girovaga In levnis Tutto il giorno Pond Pensa bene Prima di dare Del pigro A Bambam Ehi a me non importa Quella colonia È troppo rigida Amico Bambam concorda Vuole viaggiare In tutto il mondo Pond Sì amico Viaggiare sarebbe bello Solo in due In campeggio Come adesso Pronto in tavola Mangia Mentre caldo Ponna Ah ora di cena Profumo Super delizioso Allora mangiamo Ci riposiamo un po' E poi ritorniamo Alla colonia Perché dobbiamo tornare Alla colonia Scusa Ok Siamo qui da un po' Aspetta Dove sono andati Quei due testoni Erano qui Prima di andare A dormire Quei due Continuano A combinare Guai Ho una chiamata Da Dorin Pronto Buongiorno Grazie per aver salvato Bambam ieri Ok ma dove siete Scusate Abbiamo cambiato idea E siamo tornate Alla colonia 4 Beh almeno state bene Ma perché ve ne siete andati Così all'improvviso Eh allora Dobbiamo spiegarvi una cosa Ma siamo un po' Nei guai al momento Mi dispiace Farvi correre in giro Così Ma potreste tornare Alla colonia 4 Vi aspetteremo E ha messo giù Non voglio neanche sapere Cosa hanno combinato Quei due scemi E adesso Si torna alla colonia 4 Allora Alla colonia 4 Ci torneremo Prima o poi Quando vorremmo Concludere questa missione Intanto Navigazione Sì Intanto voglio andare All'obiettivo principale Ok E' un po' Che traccheggiamo Qui Lago Maliga Andiamo a vedere Sì Sciaffete Fifu Ma com'è nota bene Ora lì c'è un livello 18 Strano frammento Appuntito Puoi provare Il nemico Dell'elite A livello 18 A livello 17 Ok Ok E' bello Sacchete Ora sono due Concentratevi su di lui Ok fritto un padella Dov'è andato l'altro? L'ho mancato Ok Va bene Proseguiamo Livello 21 Questi cominciano ad essere interessanti Che dici? Proviamo? Sì Sacchete nelle chiappe Ok niente di che Va bene Proseguiamo Guarda che fufacchiosi Davvero? Non do' picchiare No no Oh va ci siamo Ehi laggiù Se ci accampiamo là Avremo una buona visuale Che ne dite di una pausa? Un'altra Riku per una volta Vuole riposare Scarpinata senza sosta Conciato zampe come salsicce Prima di grigliata Salsicce sì Ora mangiare pon Buona idea Che si fa un atto? Che riposarsi Far bagno e mangiare Davvero? Sì Lo direi Organizziamo dei turni Per dormire? Io posso fare Il primo turno di guardia Ah Mimi lascia che lo faccia con te Ok Allora accampiamoci qui Certo dove la mettano Tutta quella roba Il tavolino Il termos È vero eh È vero eh Sanna? È solo È solo È solo Alla night Pensando Esosici Sono così Salsicce 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 Vuoi andare a prendere Ok Queste Ci potrebbero fare comodo Ma dove l'hai visto il fumo nero? Non ho visto il fumo L'ho visto il simbolo Vai Vai Carico di scorte Allora la strada però Che dobbiamo fare noi è giù È giù Sì Salsicce 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 chi è quello Valdi questa è un'altra colonia eh mi sa di si però mi sa che invece ci assalgono oh no attenta manano attenta ma nana stai attenta ma nana ah that's a relief I really didn't want to have to fight a nop on oh Valdi by the way if I may eh allora però ve la cercate eh ragazzuoli non era necessario ma che fucilone c'ha lui l'aiutante gentile missione eroe questa mi sa che non sarà facile eh no no ma che fucilone ragazzi questo si muove adesso a sinistra non riesco a allora fammi dov'è Lance dov'è Lance dai mi devi far fare ecco perfetto allora ora ok torniamo da chi ero non capisco chi sono ok ah è rimasto solo lui si dai assato di gruppo allora più 70% di probabilità di aggirare difese nemiche allora io darei una prima botta con lei fiaccamento ottimo quindi ora attacco laterale attacco laterale ah quindi c'è è fatto più di 100 anche se non li ho usati tutti e tre me lo fa me lo fa rifare ma perché continuiamo non so anche perché è morto poi io continuo se mi fa continuare a qualche motivo sarà vai con lui con lui si no io direi di fa con lei che si che si va a livello 99 e poi posso usare lui che mi fa rinascere cioè mi fa riutilizzare quello più potente ah e ora me ne ha ridati due perché ho fatto più di 150 però io direi che a questo punto possiamo anche terminarlo che dici non so se ti vale per per i punti qualsiasi cosa qua ok allora riproviamo vai non lo so io farei prima uno di loro poi lui quindi ora me ne fa rinascere altri due 67 mila record record wow wow the joints are all burned out and the state of this armor hey show me that again show you what those moves you bought i've never seen anyone smash up 11ness like that i need to figure out nothing to observe frame was structurally poor evident that driving will could not withstand talk the driving will you say i wonder if it's because it was upgraded from lightweight to a more heavy assault style did i mess up the handling but the armor had to withstand a charge i had to fudge the weight to keep a good turning circle yes you're absolutely right i can't believe you could tell with just one look hey would you teach me everything you know ma riku è il super meccanico eh sì noah uh who exactly are you oh i'm valden leaveness builder from colony 30 i heard that anyone who defeats you gets a whole buttload of supplies from the castle as a reward but yeah you won so it's all good oh yeah everything's just hunky-dory what the stuff are you playing not playing anything you're really a mechanic from colony 30 who's the commander for that one again oh yeah that would be me pull the other one some boy jovenino wow don't look so surprised i did hear that colony 30's commander was the greatest mechanic in keves not sure i would say greatest but i am bonkers about leavenesses baldy hey yusette what's up surely that's my line the leaveness signal just cut out what happened oh it just got a bit bashed about everything's fine i'll be back home you're going back alone huh i i was just wondering how you expect to manage that oh oh it's fine the colony's not that far away i'll just cannibalize these bits and pieces into a new level quick as you like that takes so much salvaging oh maybe i can't do it alone eh i don't know i don't know if i'll get into this sicuro i guess we'll do your grump work all right hit us what's the shopping list you'd really help me we're not going to leave you alone to fend for yourself thank you so much lord just tuck you on landsman i mean lands then lands i shall call you let's get across in the likeliest sites for debris to your iris always nice to see a new face ok quindi ci abbiamo insieme questo valdi ah there i want the parts from that big guy ah quindi vanno anche sconfitti eh si per levargli i pezzi the cavessi wait the damage to the leg here i fixed this not long ago it was from another col oh boy this horrible valdi ok i get it so this is how my leavenesses have been treated sorry to rush you mate but we don't have time to be standing around huh what's happening well we are outlaws so they found this all as a target what? you have to do what you have to do let's get this over with ok combattiamo e vai col fiaccamento tanto più cominci e fire e fire ye fire qui imi si m'na fan to fort cian a me ok me as e fire 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 as e fire e fire e fire e fire it in Oh vai E uno preso Ok Poi Dove andiamo? Quello lì è più vicino vai Qui che succede? So you're recycling the parts As you deem necessary Yeah The supplies from the castle Just aren't gonna cut We have a lot of very particular mechanics And a lot of requests From the pilots to boot We even get commissioned To repair the leavenesses From other colonies Seems like awful much effort For not much reward Not true We're having a blast with it Our nop-on are all highly skilled And our lieutenant Has a good head on his shoulders So Remindmi Come cosa sono venuti a fare Dietro l'hans c'è uno Che deve essere tramandato Vedi Vedi Sì 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 C'è più ausiliaria C'è più ausiliaria Leaveness Ah qui questo lo dobbiamo uccidere perché presidia la zona e si gira altre volte i secchi prendono da dietro e si gira Lanz è nei guai dove è Lanz? qua eh, lì dentro l'arbre oh, mettiamogli eh, scemo c'è mica finita la battaglia, sa? che te ne devi stare qui dov'è Tyon? anche te Tyon, te ne devi stare qui dentro ora siamo più tranquilli queste chi sono? Lanz e Sena eh, lei dov'è? addirittura due Euroboros fanno un macello si si, niente male ottimo si, niente male vedete tutto questo levene wreckage questo è come una battaglia sempre senti dopo solo sad sì, è abbastanza tragica mi fa chiedere tutto il risultato guarda qui Maestro Ponna? Be a friend to all and an enemy of none. Be a friend to all? Yeah. I guess after that, seeing Wreck Levenesses, a little elbow grease, and I could just get them back on their feet. My pals here wouldn't want me to give up on them either. You're very sweet. Don't get me wrong. It's just that, as a mechanic, you can't start getting moody just because something's broken. Not all wars are fought on the battlefield, right? That gauntlet. Valdi built it by self? This? My Master Pond gave this to me, to celebrate my recovery. Caught your eye, has it? You wanna see more? No. No special interest. Come on. Don't be shy now. Riku is not shy. What I'm getting from all this is that you really like this Master Pond of yours, huh? Yeah. He was really harsh on me sometimes, but he was ten times the mechanic I could ever be. If compare Master Pond and Riku, who is most excellent? Hmm. Good question. I... You know, I would love to get to speak with him. Secrets of Riku are closely guarded. You don't say. I can't wait. Friend even listening to Riku? Endoscheletro Levenis. Ok, quindi dobbiamo tornare là dove eravamo prima. Sì. You reckon? You sure he doesn't? Thanks, guys. Looks like all the parts are accounted for. This is enough to build Levenis. What wrong, Valdi? Spirits seem middling to low. I thought that with Levenis I'd be able to protect my friends. That no one would have to get hurt. But just building them and fixing them up isn't going to make life rosy again. My pals just do as they're ordered. They go out, they fight, and they hurt people. And I'm the one responsible. If you're gonna blame someone for causing all those casualties, blame me. Valdi is doing perfectly normal job of mechanic. Issue of orders, not your fault. But... This doesn't sit right with you, does it? So make something new. Why do you always have to make stuff for fighting? Why not try a different tap? A different tap? Perché non ci fai una motocicletta a noi? Like a Levenis, but not equipped for combat. Un di un buggy, qualcosa, una Jeep. I don't know the nitty gritty, but I'm sure it's not totally off the table, right? This ain't the time to give up, right? Yeah. Lance, you couldn't be more right. I shouldn't be led by the whims of others when I make my sweet little Mecca. Thanks Lance, and all of you. I'll be back in a jiffy. Dove va? Ah, lui crea un mezzo così in sette minuti. Cos'è? Un robot cameriere, eh? It's looking a little on the small side, no? Is that how you wanted it? Yeah. He wouldn't last long in a real battle, but he can follow simple commands. Right now, his only directive is to take care of me. But that's just fine. He's a good guy. Right then. Guess our job is done. So? Yeah, don't worry. I can get back home just fine on my own. Oh, Damonblast. And I came all this way. Oh, cool. A console. Pleased to make your acquaintance? Ouroboros. Ah, fear not. I have no interest in stirring the vault. I hope to be curious as to why our dear Valdi hadn't returned. You promised us you would build the ultimate Leveness, did you not? How much longer do you expect us to wait? Ah, you agliant dogs. How I shall delight in crushing you beneath my boot. About that. Actually, I've decided to... How many times must I say it? Games are for winning. That's what matters. Consider. If we were to lose the initiative, we would be the ones trampled beneath their boots. Yes, but... Ah... Valdi, my boy. Who was it that said he'd be fine? So long as he could tinker away with Levenesses. Because I clearly remember those words. If you've got time to be flapping those lips, you've got time to be working those hands. Should you fail in your duty, I won't be held accountable for what happens to your friends in the colony. Snuff you, asshole! The more that comes out of your gob, the more I want to smack them! Understood. I'm heading back. Valdi! Don't worry. I've made up my mind. Ultimate Leveness, he said. I'm a little worried now. It's unlikely to bode well for us. Ideally, we'd want to prevent it being deployed in battle. Oh yeah, there's that too. But I was more worried about how Valdi feels. He said he'd made up his mind. Doesn't sound like he's gonna be finishing his ultimate anything to me. He wants to destroy it. Huh? It's going off on its own. It's following Valdi. Adhering to directive of Protect. Noah? Yeah, we're following it. Always nice to see a new face. Ok, quindi la missione prosegue. Would you believe it? Scratch that. Come saltella felice. Sì. Che buffo. Sembra una gallina, sembra. Come cammina. Eccola. Colonia 30. Inventa. Ingresso grotta. Per liberare una colonia dalla stretta del consul, dovrai rompere la loro cronofiamma. Così facendo rafforzerai il rapporto degli abitanti e otterrai bonus intesa. E come si fa a distruggere la cronofiamma? Con l'altra spada. Eh sì, ma non mi ha detto come la chiamo l'altra spada. Scopriremo. Eccolo. Cosa. 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 A presto ciò che continueremo. Abbiamo un po' poco tempo. Se faccio quello che ho detto, tu finisci a perdere tantissime persone. Non ti preoccupi. Non lo so però ho l'impressione che contro questo coso Ci dovevo combattere Ecco, lo sapevo Sbabang E' forte il robottino Eh ma ora si fracassa Poverino Ai 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 Oh no Oh Oh no Oh no Oh no Ok Eh mi sa che qui il fiaccamento mi fa una scelta Ma non gli facciamo niente Allora mi conviene prendere un curatore Dove è mio Questo è mio Si E Lance dov'è Dov'è Lance Eccolo qua Lance Eh però se non mi da il cerchio curatore Ok Cerchio curatore qua Però lo aiuto Ok state qui eh Eccola qua Eccola qua Tyon dov'è Tyon No era questo Tyon Stai qua Che sta per finire Stai qui E' andato Ok Rianimato Tyon Uruboros Mamma mia Questa è forte eh Un assento di gruppo no Appena Appena diventa rosso E si incazza Eccolo Ok Ora Vai Allora A girare le difese nemiche Si Questo mi piace Quindi cominciamo subito Con un Con un Con un Oh Ci abbiamo anche Questo qua Ok Allora Cominciamo subito Con lei Un bel fiaccamento laterale Ok Poi vado con lei Poi vado con lei E finisco con lui Ok 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 Poi Ok Ok questo mi piace Quindi Andiamo dritti per dritti Un'altra volta con lei Siamo a 81 quindi possiamo usare lei E così andiamo a 99 Che se no ce lo fa finire subito E poi andiamo con lui Grandine di proiettili Rientro in campo di lei Perfetto 70% proprietà di attacchi imparabili Bene Quindi E vabbè prima lui sicuramente Poi andiamo con lui E poi con lei No Perché? Allora Dai Prima lei 69 mila Il che non è male Ma si poteva far di meglio Questo non gli facciamo assolutamente niente Serve un altro attacco di gruppo Serve Ottimo Ottimo Sì 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 No Nessera Dessera Quasi Voi Voi puro boros oh morto ok perfetto ottimo siamo un po' scarsi con gli attacchi a catena ancora però mi sa che si trasforma lui l'hai costruito in sette minuti lo rifai non mi chiede non mi chiede almeno questo questo ragazzo ha potuto vivere come ti chiede lo che vuoi beh, mi spero Ho spero di così. Grazie per me rispettare. La prossima volta sicuramente ti dare un corpo più difficile, meccafriente. Meccafriente? Deve avere un nome, certo? Questo c'era un po' che non è pensato per la battaglia. È un compagno amico, e un amico. Quindi sì, grazie ragazzi. Non mi concentrerò solo per riparare le luce. Sto lavorando hard per trovare il migliore modo per proteggere noi tutti. Nel senso vero. Oh, ma... Credo che questo significa fare qualcosa su tutti i nostri clock di flame, eh? Agiamo noi sulla tua cronofiamma, stai tranquillo. Ci pensiamo noi. Let's do it. Let's make this happen. Here we go! Cronofiamma distrutta. Colonna 30 liberata. Livello di allerta 3 tra i keves. Per ora di Agnus non l'abbiamo distrutta neanche una di cronofiamma. Bene le scarpe di Yoni. Eh sì. Come si senti. Sì? Per oggi ha fatto una scena, no? È un problema grande per te. Poi ragazzi. Tu sembra più stungi da io. come on man no I'm fine I mean sure it's a big change of perspective but like I said before I'd already made up my mind true that hey um could I help you guys with your mission in return oh yeah it'll be the least I could do valdy realized what valdy say I've never been more sure thank you we appreciate looking forward to it me too count me in ok quindi ora ci abbiamo un settimo combattente bene e insomma abbiamo distrutto anche la cronofiamma della colonia 30 già se continuiamo così i consul si arrabbieranno sul serio speriamo che succeda solo quello cosa vuoi dire pensi che non siamo gli unici che hanno nel mirino vero se i consul vedono la fuga dal dominio della cronofiamma come un atto di ribellione allora i soldati delle colonie liberate potrebbero essere in pericolo quanto noi quindi non è che possiamo distruggere le loro cronofiamme e lasciarli al loro destino possiamo difenderli tutti ne sono certa con il potere degli uroboros dalla nostra parte nulla ci può fermare sì cioè no insomma siamo solo in sei non possiamo essere dappertutto beh anche se non possiamo proteggere tutti in ogni momento possiamo almeno aiutarli in vari modi o come abbiamo fatto con la colonia 4 noi abbiamo letteralmente tanta strada da fare ma anche loro non scherzano penso sia importante collaborare per creare legami di fiducia e di cooperazione sì beh sono belle parole ma non me li immagino ad accoglierci a braccia aperte con il cuore traboccante di gratitudine ma ha senso però no chiunque si chiude al riccio se lo aggredisci la cosa più intelligente da fare è rizzare le orecchie e parlare con la gente per tenerci a corrente delle ultime notizie così potremmo venire a sapere dei loro problemi o difficoltà e scoprire in cosa possiamo aiutarli mi piace l'idea di uni semplice e diretta beh allora non perdiamo altro tempo andiamo a cercare qualcuno con cui parlare alla colonia ok l'aiutante gentile completata ora puoi arrampicarti e scendere da certe pareti nuovo eroe medico di guerra valdi erede di classe lance ok classe medico di guerra ruolo cura il suo punto di forza è un'eccellente abilità di cura aggiungilo al gruppo e lascia che si prenda cura della salute di tutti sì ci serve un curatore in più arrampicata si tratta di un'abilità di movimento che il gruppo ha imparato da valdi ti permette di arrampicarti sulle pareti senza usare una scala bene ragazzuoli io direi che anche questa puntata è giunta al termine noi vi diamo appuntamento al prossimo episodio con xenoblade chronicles 3 mi raccomando lasciate like e condividete e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale un saluto da p santana e dalla bea ciao a tutti ciao ciao